Rossi risponde alla ministra Boschi che dalla Leopolda dice di essere favorevole alla fine delle regioni a statuto speciale. Dure le reazioni di tutti i partiti trentini. IAPAP apre la polemica sulle regioni speciali dalla Leopolda a Firenze. La ministra Boschi dice di essere favorevole a chiuderle. Come lei la pensa un altro esponente del PD, Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte della conferenza dei presidenti delle regioni italiane. Da Trento arriva subito la risposta di tutte le forze politiche. E' riuscita nel miracolo la ministra Maria Elena Boschi. Ha messo tutti d'accordo in Trentino, dalla sinistra alla destra. Tutti insieme, magari con sfumature diverse, per dire giù le mani dall'autonomia. Raccontiamo cosa è successo. Ieri alla Leopolda a Firenze, durante l'incontro dell'anima renziana del PD, a proposito delle regioni a statuto speciale, la ministra delle riforme ha dichiarato che non è il momento propizio, ma sarei favorevole alla soppressione di questa realtà. Apriti cielo, ovvio. Da Trento hanno risposto appunto tutti. Il presidente Rossi... E pochi minuti fa è arrivato un comunicato anche del Movimento 5 Stelle. La nostra autonomia è in pericolo. Lo scrivono e questo pericolo si chiama PD.